Eeeh what's up a tutti ciurma e benvenuti raggiacrimi in questo nuovissimo episodio su Life is Strange 2 Vediamo ragazzi se riusciamo a raggiungere almeno i 40 like per questo nuovo video Ed eccoci qua di ritorno dopo che la volta scorsa ragazzi ci ha praticamente caricati sul suo camion un certo Anton Che sembra essere comunque una brava persona Mi ha ispirato abbastanza fiducia, sembrerebbe non essere stata tradita Andiamo a continuare, vediamo da che punto ripartiamo Eeeh che ora mai ragazzi è difficile, è difficile fidarsi Specialmente adesso in Life is Strange 2, è difficile davvero E chi c'è qua? Ok siamo arrivati Non so qualcosa Direi Grazie mille amico Davvero È stata un'ottima cosa ragazzi perché siamo risparmiati un sacco di strada a piedi Sotto a sole cociente a mezzo al deserto Grazie amico, grazie Ciao È stato un buon incontro Beh c'era da mangiare anche un bel panino unto e bisunto Ce l'abbiamo fatta Dobbiamo vedere In che punto di event point precisamente Dovremmo andare però Bisogna vedere che cosa c'è scritto Perché conosco l'inglese ma non so che significa gamble Bear on the Lord Bear forse vuol dire scommettere Però gamble non so che diavolo significa Infatti amico Vabbè Che è successo Che è successo a sta bambina Ma che a volte possono essere i peggiori Però non è detto Cioè Ma che è successo Ehi Andiamo a impicciarci un po' dei fatti altrui Che succede Ma sta bambina non sta bene L'hai visto gli occhi Salve buon uomo Salve Non esattamente Sto cercando una persona Davvero Invità Don't thank me I'm just a vessel for our reverend Thank her Looks like you're here to see our new miracle Right? E che cosa Quale sarebbe? Che miracolo? What miracle? You haven't heard of him? Then I won't spoil it for you Oddio He'll be here any minute now Just come inside and see for yourself Oddio Gesù Praise the Lord Oddio Gesù Non si starà mica riferendo a Daniel a suo potere No? Perché ha detto In inglese Ha detto him Cioè In inglese Stavo dicendo Ha detto Eh che cazzo Stai zitto Un attimo Sean Sto cercando un attimo Di una cosa Eh Poi mi scordo In inglese Ha detto him Quindi significa che si stava riferendo Ad una persona E him È maschile Per cui Miracolo Riferendosi a una persona Al maschile Potrebbe Voler significare Qualcosa Speriamo Sean Speriamo Più che altro Non so se Dare uno sguardo Qua in giro Cioè dare un'occhiata Più che uno sguardo Effettivamente Vediamo se c'è qualcosa Che dice L'adesiva Ma certo Certo Può anche essere Può non essere Cioè può essere Qualsiasi cosa Direi di Ripeto Ficcanasare Un po' Qua intorno Anche se Probabilmente Avrei dovuto Entrare in chiesa Prima di tutto Però Poco importa Poco importa Ecco qua Lo sapevo Che sarebbe Andata a finire Di cacca Con quell'occhio Lo sapevo Magari un po' Un po' Di gente Sbirciamo dentro Ah c'è una tenda Accidenti Che bontà Il panino Del nostro caro amico Anton Non ci è bastato Direi Ma dai Davvero Va bene Direi di entrare Allora In questa Pseudo chiesa E Vedere che cosa Ci aspetta All'interno O magari Posso andare A guardare Un attimo Vabbè Niente Sono impaziente Di entrare Ragazzi Entriamo Non perdiamo Più tempo Andiamo un po' Gli sguardi Della gente Bene Attento che Te può Fammare L'aria Condizionata Ah c'è il bagno Direi di Approfittarne Chissà Quanto tempo Che non possiamo Fare la cacca Pupù Non possiamo Davvero Ah perché Non proviamo Non potresti mettere L'acqua sulla Benda Sean Effettivamente Se proprio Vogliamo essere Puntigliosi E pignoli Però Fa niente Vabbè ma Non vuoi fare La cacchina No Evidentemente Non ne ha bisogno Impellente Va bene Va bene Cassetta Delle donazioni Che dono io Che non ho manco Gli occhi Peppiagne Effettivamente Vabbè Questa Non faceva ridere Ma sì Il tizio ha detto Che qua Chiunque È benvenuto Vediamo Un po' Un picnico Con Daniel Cosa È benvenuto Oh no, what is faith? Remember Luke 18, 27, what is impossible for man is possible for God. With that righteous faith comes the salvation of your souls. Can you cross that invisible bridge to salvation? Do you want your soul to be saved, brothers and sisters? Oh yes, you are not like all these sinners out there. So I never asked the Lord for a sign. Then he gave me one. He spoke to me and told me that I was doing right. And to reward our great faith, the Lord sent me the ultimate gift. An angel, a child graced with the power of God. The miracle we have all been praying for, waiting for. Can I get a hallelujah? Hallelujah! Do you have faith in his power? Do you have faith in me? Then please welcome our newest member and our latest miracle, the angel, Daniel. Praise you, David. Oh hallelujah. Praise Jesus. Oh Jesus. Here is Daniel, the prophet who was thrown to the lions by false prophets. But God saved Daniel so he could do his work. Hallelujah! Yes, Daniel was brought to me to deliver us, to guide us from the wilderness, to our destiny. Now Daniel will reveal the true power of the Lord. 구독 combinations to God drove us, to attack us with about the我有 shown in genuine love. This is the Canc экics. Thank you God for yourself, who she made us, it was one of my Angela's faces. Oh my God right. Oh my God. My God. Oh, my God. Oh my God. Saskia Devil? I can't believe him inoot. Do you feel your soul rising? Do you feel that like the cross? Look at that, climb up, hope you ever did. Stand up. Daniel's been touched by God. I can't believe him. I can't believe him, Jesus come up. La house, be safe. Non male che doveva restare un segreto Ottimo lavoro Daniel Davvero ma magari Sì che lo sappiano tutti A me sembra più un prigioniero ragazzi Un ostaggio C'è stato quel tipo che l'ha controllato tutto il tempo Lo tengono prigioniero tipo Non se lo faranno mica sfuggire Oddio Ecco Lo usano come fenomeno Insomma per fare Ecco vedete Lo usano per fare i soldi Come è tipico proprio Cioè mi sarei stupita del contrario Che situazione di merda Davvero Sarà un gran bel problema adesso Un gran bel problema Accidenti Hi Oh Uh Hi I saw you out in that parking lot earlier Okay Yep That was me I like to be here too We can see the whole room And it's where a reverend mother teaches us classes Oh You okay? Need some water? Uh no Sorry I'm just kind of sick Oh that sucks That's too bad Povera bambina Oh where can we care? Hey What happened to your eye? Well That's a long story That's okay My name is Sarah Lee What's yours? Hello Sarah Lee My name is Sean Good to meet you By the way Can I ask you something? Are Daniel's brother? Really? He's always talking about you Hey Uh Not too loud Yes I'm Daniel's brother But I need some help The reverend mother says we always have to help our neighbor What do you need? Puoi portarmi da Daniel Però secondo me è È sorvegliato È sorvegliato ragazzi Non se lo faranno di certo sfuggire facilmente So Can you take me to Daniel? Oh yes He's gonna be so happy when he sees you He missed you so much for his birthday It will be like a late surprise Non sarà facile raga Ho un brutto presentimento al riguardo Davvero Brutto Guardate quanti sogni State zitta State zitta State zitta I guess I mean Sean? Oh my Sean! You came back! I knew it! You've grown up and I know Do I look older? What? What happened to your eye? Don't worry It's okay Did that happen at the farm? Because of Me? I'm so sorry I'm sorry Non è stata colpa tua Forget it It wasn't your fault I should have It's okay Does it Hurt? No No Not as much as your hair cut Shut up It's different I kinda like it Hmm I don't think I didn't want to leave you there Ma? Nothing I could do I was so scared I even thought you were dead And It's okay We're together now Yes So Are you gonna stay with us now? Ecco Huh? I We still need to go to Puerto Lobos But We don't need to We have a new home now Ecco qua Look One step at a time Daniel Give Sean a chance to process this I'm sure This is all So Overwhelming By the way My name is Elizabeth Fisher We all prayed for your safe return Sean You must You must be a believer now In our lord too Hmm Non proprio Well Not really No So Daniel was wrong? Hmm You can be honest Here Sean But first I need Sarah Lee And Daniel To grab the medicine kit We have to take care of our new guest This is a place of healing Aww Let's do it later I want to talk to him now Daniel Now Okay Reverend Mother Let's go Daniel Whoa whoa Hold on Well Sean It's a pleasure to meet you This is a real blessing Today You were away from Daniel For quite a while I was in a coma Of course I wasn't judging you So what is your plan Sean This is a blessed family And it would be good For Daniel To have you by his side E che cosa dovrei stare a fare qui Scusa Sarebbe a dire Farsi usare per fare dei soldi Andrò in Messico con De Eh Dio o lei Accidenti I'm leaving here With Daniel Yes Yes I know about this Reckless Journey Sono io la sua famiglia I'm his family Two young boys Are not A family Sì 325 If a house Is divided Against itself That house Cannot stand Daniel sounds More like a prisoner Than a guest It saddens me That you see things That way After everything I've done for him I know Why you're scared Sean That's because Your heart's Full of sins I've heard Everything About your journey Sean And I cannot Let a sinner Like you Into my community Ui Adesso non mi può accettare Ma va a cagare va Are you serious? I'm sorry My son I'm not Your son And Daniel Isn't gonna be Your golden cow Daniel Come on Why don't We ask him What he wants to do Do not touch me What the fuck Ma per favore Ma per favore Ma chi l'ha toccata? Oh Oh Mi avete fatto Un bel lavaggio Del cervellino Non mi toccare I want to be your friend Ma cam Crazy Let's get out of here Daniel I want to stay Just go There's your answer Sean We're together again So we can go Right Come on Get out Oh What Daniel Let me go Asshole Daniel They're not your family Stop it You just need to have faith We'll be waiting Daniel It's okay Sean Daniel Oh my god Io Vedete lo sapevo Lo sapevo Lo sapevo Voi siete pazzi Che vuoi fare? Mi vuoi picchiare? Pezzoni in merda Ecco qua Cioè siete delle merde Merde Ui 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 He doesn't want you He was brought here And this is where he's staying Next time I will not hesitate to use this Now get out of here Non ho parole Daniel Lo sapevo Che il mio presentimento Era giusto Lo sapevo Sean Karen Karen You won't get him back Like this Let's go Oh Oh Dio Sean Come on. What happened to your eye? Why the hell are you here? How did you find me? Well, um, I got a letter from Jacob. He said you were missing. And that Daniel needed help. I believed him. So you finally decided to check on him. You know, Sean, sooner or later we're going to have to talk. Where are we even going? I already have a hotel room. You're going to need to rest and clean that dressing. Oh, my God. Succede sempre tutto insieme. Accidenti. Non ci sto credendo, ragazzi. Pazzesco. Pazzesco. Che bellezza farsi una doccia. Immagino dopo tanto tempo, tanto sudore. Mamma mia, quelli, vedi, sono colpa mia, Sean. Però non potevo permettere, dai. Oh, finalmente anche degli abiti puliti. Certo. Va bene. Ficcanasiamo, come sempre. Karen seems to be on the move quite often. E chi lo sa? Effettivamente direi non sappiamo nulla. Oh, sì. Beh. Direi di sì. Assolutamente. Prima che diventi un nido di pus. Celulare. Vediamo. C'è un nido di pus. C'è un nido di pus. Vediamo. Questo paese è proprio... molto molto grande. Celulare. Ui 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 ui. Karen era sempre in too low tech. Ebbè dai Felpa Eh già Ebbè ma Ah c'è un messaggio di Nostra madre perché effettivamente è nostra madre Accidenti Non ce ne scordiamo Sono uscita a comprare un po' di cose Ti prendo anche qualcosa da mangiare Se per caso ti viene fame In bagno troverai dei calzini e dei boxer nuovi Sono tutti i tuoi se ti vanno bene Dovresti chiamare Jacob Trovo il suo numero sulla lettera che mi ha spedito Vediamo Mi chiamo Jacob e ho lavorato con i suoi figli Sean e Daniel in California Come ha fatto a trovare l'indirizzo Scusami di Karen Scusate per inviarle la lettera Boh Sono stati dei problemi e Sean è scomparso Adesso sono con Daniel a Heaven Point in Nevada Mi ha dato l'indirizzo di questa casella postale Ah ok Quindi ho deciso di scriverle questa lettera Penso che Daniel sia in pericolo Dobbiamo aiutarlo ad andarsene da qui Mi chiama questo numero La prego faccia presto Caspita Quindi pure lui era consapevole Del fatto che Daniel si sta ficcando in un casino Oh possiamo Vediamo prima di usare il tablet Cos'altro c'è qua in giro C'è una cippa Ok Va bene L'abbiamo messo L'abbiamo preso giusto per Insomma per avere Ah possiamo Minchia volevo usare il tablet Prima Caspita Vabbè Troppo tardi è andato Andiamo a cercare Jacob It's me Sean Sean? No way I've been waiting to hear from you for months So you found my note in your sketchbook? Yeah Where are you? You have to come here Sean I know I'm not far In a motel Good Listen I can't talk right now I gotta go Wait Daniel How's he doing? Meet me tomorrow afternoon On Brandy Highway There's a junction Just above Haven Point There's a A wild mice Ranch billboard there I'll be there At four Jacob wait I can't talk Sean Be there tomorrow Please Mamma mia Ma che è? Tutta sta cosa di sedereti Se sei invischiato comunque In questa sorta di setta Perché Beh direi Aspetta All this is so messed up Volantino della chiesa Che meraviglia So Karen did check it out Ne certo Wonder if she saw Daniel in action Chi lo sa Possiamo frugare nelle sue cose I know I shouldn't pee But What the fuck Ok non ha fatto commenti Su questo D'accordo Karen did her own road trip To get here Vado avanti Per guardarmi indietro Facendo la stessa scelta Due volte Due volte Giorni di solitudine Notti pieni di sogni Solo per trovare me stessa Guardo in avanti Per tornare indietro Ui Caspita Karen does like to capture the world around her Beh Vabbè ragazzi non leggo tutto Se no stiamo qua tre ore davvero Va bene Che altro possiamo Sbirciare Niente di che Le solite cose Per cui Ah il tablet Si volevo usare Lo so Ah ecco Ah però la password C'è scritta Uno Uno Due Sette Zero Otto Nella chiesa dell'ascensione universale di Haven Point Guardate un po' quanta roba Perché che dice? Ah beh sì Un'intervista Diciamo un po' strappalacrime Eh già Beh le recensioni Non sono un gran che Va bene Direi di aspettare Nostra madre Allora Ma sì Sonno Un po' distrutta Dai Beh ovviamente lui c'è la morte con lei Ovviamente Got you some gauze And anti-bacteria stuff For your eye Hey don't wolf that down Or at least take a breath Like you care Like you care Sean I do Come on Karen Don't act all hurt It's too late Where were you when I broke my leg when I was 13 Not with me When Daniel got a bad flu a couple years ago He didn't sleep next to him every night Where were you when I was 13 Where were you? Fair enough So let's talk Because we do have to get your brother Out of a cult I'm listening How did you two survive alone on the road for that long? Non lo so Sono indecisa Buttarle lì ce l'ha insegnato papà Anche se Ragazzi il punto di vista di Sean Così risentito È comprensibilissimo Ci hanno aiutati Chi ci ha aiutato? I nonni per un po' di tempo Però quasi non ce l'abbiamo fatta We almost didn't We just Kept moving And nobody helped you along the way? You know I don't have to answer your questions, right? You're right So tell me what you want from me, Sean Nothing, Karen I mean, what do you want from me? A fucking hug? Hey I just want you to know what I did And why If you care So ask me anything Why didn't I say I'm data? All right Why did you bail on us? I wasn't meant to be a wife Or a mother I thought I was supposed to I tried to pretend for many years But I wasn't happy And the urge to leave Just became unbearable I had no other choice Are you serious? You chose this life You fell in love You made your own choices Right? Making your own choices Doesn't mean you can never Fool yourself, Sean After I had Daniel You were about eight And Esteban's garage Was getting busy There was so much Going on around me Yet somehow I just felt that my own life Was just slipping away It felt like an empty shell Sean It was the hardest decision I ever made I knew I might never See you all again But I took that responsibility Did dad know about all of this? I was honest with your father We did family therapy But it wasn't about him It was me He was heartbroken for months After you left Years I was too I was in love with your father He was the best person I ever met But just not enough for you Something was missing from the equation Yeah I was So what exactly are you doing in Nevada? You live around here? No I'm way out in Arizona Sean I told you Your friend Jacob Wrote my P.O. box And said Daniel was in trouble That's it Arizona? Holy shit It's just lizards and rocks Guess I found something there New York didn't really do me good So Yeah Okay Think I've heard enough I didn't have a choice Sean We only have one life And I didn't want mine to be spent in regrets For years I fooled myself Thinking I'd find satisfaction Into what society expected me to be And that was my mistake I hope someday you can understand that But I never stopped caring about you For what it's worth I am sorry for hurting you and Daniel And Esteban Non so Che piega per prendere la cosa Sinceramente Non voglio che lui sia troppo duro Perché comunque l'è stata onesta Alla fin fino Non ha cercato di inventarsi stupide scuse Però capisco il suo risentimento Non lo so Dai 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 Sean. Whatever you want to say to me, this is the time. Let's just get it all out in the open, see what happens. So, did you ever actually miss us? Or dad? Of course, Sean. I do miss your father. He had such a big heart. He could brighten up a rainy day, that was like his superpower. But above all, I missed watching you grow up, see how you saw the world. I missed sharing these moments with you, Sean. We used to do so much stuff. Like when you taught me to ride because dad sucked. Or when we went camping near Vancouver. Just me and you. You always loved night skies. I did stargaze a lot when I was in California. Trust me, the further south you go, the better it gets. I mean, I get you wanted to leave and stuff. Okay. But why would you ghost us like that? Not even a fucking birthday card. I just... I thought if I vanished, you would all move on. But I wanted to contact you guys so many times. I almost did. But you wanted a clean break from us. I didn't want to be a part-time, pissed off mother. Not fair to any of you. I left when Daniel was still very young, so he wouldn't remember me. Yeah. I wasn't that lucky. Oh, Sean. I know. Do you want to tell me how you felt then? Or now? I felt guilty that we weren't enough for you. No, no. You guys were the reason to stay. I left because of me. I hope I can make it up to you, Daniel. Someday. I can start by getting his ass out of that church. Cult. Whatever. So... What did you do when you left? Where did you go? I pursued some dreams. And failed. Learned the lessons. I guess all this time I tried to find out what really matters to me. Which doesn't involve a husband and two kids. It does to a lot of people. And I totally respect that. Just not to me. I wasn't good at making plans. Which is what most of modern life is about, right? School. Job. Marriage. Ask my mom and dad. They wanted me to follow their rules. Their faith. And I tried. But I wanted to find my own way. With no security blanket. Family. Religion. Social norms. It's just all about security, after all. But it all just looked like a sweet golden jail to me. I tried to escape that. Yeah. Hope it was worth it. It was. For now, I've found my place in the world. With like-minded people. I'm at peace with my fuck-ups and my decisions. How do you make peace with bailing on your parents? Your husband. And your kids. I know. That's hard to understand. But I think people should know who they are. And not fake it for anybody. Whatever. You sound so... careless. It's like you can't even realize how much pain you've cost. I do care. It's why I'm here. To help you. And your brother. If I didn't step up to help him now... I couldn't live with myself. Hey. Um. Mind if I bum a smoke? Sure. Still got a few left. Hmm. Wow. I haven't seen that lighter in ages. Your dad loved that thing. I know. The only thing I have left of his. No, man. Esteban hated when I smoked. He didn't want me to die an early death. Fuck. Life can be so cynical sometimes. I remember he would smoke sometimes. Long ago. We didn't fight much. But when we did... I would go out on the porch and light up so I could calm down. Esteban would come over and ask for a drag. Now we just look up at the sky and watch the stars. Or the planes. I do miss that. I used to do the same with my best friend Lila. Sitting on the porch. Just letting time go. That's when you know someone is good to you. When you can just sit together. Shut the hell up and watch the universe do its own thing. But... I don't know. It's been a nice moment, guys. And then... It's been a nice time. It was a tough time, guys. It was a light, obviously. But I think it's been a terrible time. It was a tough time, too. For Karen and for Shaun... It had a certain meaning. insomma un momento di un certo spessore in cui insomma lei ha cercato di essere il più onesta possibile quindi questo secondo me è da apprezzare ma niente lo so è still hard ma sì abbiamo bisogno di essere una squadra per rischio Daniel possiamo fare ok come abbiamo bisogno di contare con questo Jacob è ovviamente conosce molto più di noi sulle la città beh ho chiamato quando sei fu noi possiamo conoscere con il tomorrow ok, bene ok ok bene 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 Sì, dai. Sì, dai. Sì, dai. Sì, dai. Sì, dai. Sì, dai. Bravo Sean, così si parla, a Ciderbolina. Benissimo ragazzi, allora probabilmente questo video sarà durato un po', però non potevo assolutamente interrompere un momento così importante. Riprenderemo la prossima volta da qui, sarà il momento in cui rivedremo Jacob e vedremo cosa potremo fare per far sì, insomma, che Daniel venga con noi. Cioè, per far sì che si possa liberare Daniel, perché effettivamente è un prigioniero, ragazzi, e gli hanno fatto il lavaggio del cervello. Benissimo proprio. Per cui questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione. Dopo lascio a tutti ragazzi, ciao! Vi ricordo ragazzi che se volete costanti aggiornamenti sul canale potete trovare tutti i link dei miei social in descrizione e anche il link per farmi delle donazioni. Ciao!